Lanciamo una proposta? Sì, perché... La lanciamo al sindaco di Vicenza? Sì, volentieri. Il primo martedì di marzo, quindi il primo martedì è anche quello il giorno dedicato a Marte, anticamente, di marzo, il mese dedicato a Marte, fare una bella festa per riqualificare sto campo marzo o campo marcio, potremmo utilizzare tutte e due le cose. Sfruttiamo per far capire ai vicentini anche a quelli che lo chiamano campo marzo, che non significa marzo e il primo di marzo è la festa di tutti i Veneti, perché il batti marzo di una volta che si faceva è il capodanno veneto. Perché non mettere insieme queste cose, riqualificare, indicare la nostra storia? Così, venerdì scorso a Focus, avevamo lanciato la nostra nuova proposta alla città per riappropriarci di campo marzio. Anzi, hashtag riprendiamoci campo marzo, in linea proprio con lo slogan coniato dal prefetto per la festa del 2 giugno scorso. Creare quindi ed offrire ai vicentini un'altra occasione per frequentare questo prestigioso polmone verde, sottraendole un po' alla volta, in vari modi, al degrado derivato dalla droga. Oggi abbiamo cominciato a sondare le prime impressioni in proposito, e sembra che siano proprio tutti ad aver apprezzato la proposta di Rete Veneta. Quando vengono fatte iniziative per promuovere campo marzo, la cittadinanza risponde sempre in massa ed è felice che questo succeda. E se fosse proprio a marzo, magari proprio come festa dei Veneti, cosa ne pensa proprio far coincidere l'evento festa dei Veneti e festa proprio di campo marzo? È un messaggio importante. Penso che sia un'ottima idea. Secondo me verrebbe molto popolare, e molti sarebbero d'accordo e soprattutto ci sarebbe un riscontro molto positivo. I parchi vanno vissuti, molte volte sono cosiddetti malfrequentati perché noi abbiamo paura di frequentarli. Temo che non sia sufficiente una festa per liberare certe frequentazioni. Comunque, se è un tentativo, facciamolo. Io sono molto d'accordo perché sono sempre stata convinta che le aree pubbliche più sono frequentate da famiglie e da ragazzi, da persone di qualsiasi età, i luoghi pubblici sarebbero così più sani. Primo martedì di marzo 2020, prima festa in campo marzo. Lanciata, lanciata, l'abbiamo lanciata qui da Focus con Rete Veneta. Grazie a tutti.